bentornati nel mio canale oggi sempre video in collaborazione con bibi craft vi faccio vedere come realizzare questo bracciale faccio vedere io l'ho fatto con la pallina perché mi piace molto vedete però chi non avesse la pallina di chiusura si può fare con il nodo piatto e il nodo piatto è questo vedete questo è il nodo piatto anche questo vedete si tira come la pallina quindi se avete piacere vi faccio vedere come fare anche questa chiusura qua bene ora vi dico i materiali che servono e quindi andiamo al video tutorial bene per fare questo progetto che è semplice una volta imparato a fare i nodini è veramente semplice e a me piace molto quindi abbiamo bisogno i nodini sono così a vedete allora abbiamo bisogno di 11 di queste perline di cui 9 andremo a metterlo nel cordoncino questo cordoncino è lungo 55 vi faccio vedere codice delle perline prima di tutto vi voglio far vedere come fare questi nodi diciamo che questi io li ho fatti con l'ago perché mi servivano abbastanza stretti però in realtà si fa in questo modo qui io di solito prendo una cannuccia non avevo un tubicino sottile quindi ho dovuto fare con l'ago 1 2 3 4 e 5 prendiamo l'altra estremità del filo lo infiliamo nel tubicino questo modo e tiriamo togliendo il tubicino e viene questo piano piano stringiamo per dare il nodo stretto ecco qua allora io premetto questo lo abbiamo fatto con un tubicino ed è un filo grosso vedete ed è un filo grosso mentre questo qui è un filo molto sottile ci voleva un tubicino sottile quindi ho usato l'ago io vi faccio vedere ora come fare i primi 23 poi dopo saltiamo tutto perché sennò è troppo lungo e vi faccio vedere il montaggio del del braceletto a abbiamo bisogno io uso questa pallina perché mi piace molto di più la chiusura a pallina chi non avesse questa chiusura qui penso che si trova anche sul bibi craft io adesso lo sto contattando loro per sapere se ce le hanno poi vi metterò il link se ce le hanno in tal caso vi faccio vi farò poi vedere anche fare la chiusura con il nodo piatto allora lasciamo dieci centimetri e iniziamo a scusate mi ero dimenticata io per facilitare perché molto spesso il filo non entra nella crona quindi come faccio io faccio in questo modo vedete in questo modo allora prendiamo dieci centimetri di 10 centimetri di fine iniziamo a fare l'avvolgimento ecco io in questo modo faccio 1 2 3 4 e 5 prendo il filo questo qua vedete questo di questo che ho finito l'avvolgimento vado a inserirlo nel mio nel mio cappio che ho fatto tiro in modo da prendere tutto vedete tiro 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 e vado a stringere il mio nodo vedete ora metto una pallina per una perla per mettere la perla vi conviene bruciare il filo io ho questo qui che è di nylon ma voi potete anche prendere un altro filo l'importante che sia sottile vi faccio vedere com'è il mio se lo vedete ora infilo una perla vedete vedete in questo modo prendo sempre il mio ago e vado fare cinque giri uno due tre quattro in questo modo in questo modo mette fuoco ok poi prendo il filo che ho finito il vedete il l'ultimo giro questo lo inserisco nel nel mio cappio che ho fatto e tiro l'ago piano 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 in modo mi raccomando devono venire vicini alle perle quindi tiriamo 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 in questo modo e ecco l'altro nodo vedete anche se proprio non è vicino però non deve essere più distante di così ok ok rifacciamo prendiamo una perlina metto o la inserisco nel filo tiro so perché non mette fuoco ok ok ora ora prendo l'ago e faccio cinque giri uno due tre quattro e cinque un po' lento tengo vedete prendo questo filo qua lo vado a inserire nel mio cappio questo e tiro l'ago in questo modo tiro 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 vedete dobbiamo sempre cercare di avvicinare più possibile alla nostra perlina se non si avvicina tiriamo da questo filo qua vedete e lo spostiamo più vicino più vicino perché a volte succede ok 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 bene abbiamo fatto tre due perle e continuiamo così per tutto il filo io non sto a farvelo vedere tutto vi faccio vedere poi alla fine come assemblare le altre le due perle che rimangono con il nostro la nostra pallina bene ho infilato tutte le perline le 9 perline guardate ok ora andiamo a infilare la nostra chiusura io mi prendo questo tipo di ago vedete quelle che si apre in questo modo vedete vedete inserisco il filo dentro in questo modo prendo la mia pallina la inserisco ecco ecco come vedete qui ha una gommina che questo serve per far scorrere il filo è ma allo stesso tempo chiuderlo quindi inserisco faccio passare il filo tolgo il filo prendo l'altro cappio del filo e inserisco in questa maniera adesso tengo così prima l'ho inserito da questa parte ora lo inserisco da questa faccio passare il filo ho rotto l'ago niente rifacciamo ok vedete ora abbiamo la pallina che apre e chiude ma in realtà è anche tiene anche abbastanza fermo ora andiamo a mettere le due perline in fondo qui possiamo fare la chiusura normale però potete fare anche l'altra così se volete fare l'altra dovete tenere il filo un po più lunghino quindi invece di 55 centimetri 60 io di solito vabbè io ho un polso sottile però quando le do a vendere io preferisco lasciarlo grande poi vediamo magari lo taglio lì al momento vedete bene io spero di essere stata di aiuto se il video vi è piaciuto mettete un like vi ricordo che questo video è in collaborazione con baby craft e niente se se volete rimanere aggiornati cliccate sulla campanellina attivate la campanellina e noi ci vediamo il prossimo video ciao ciao ciao